Il rialzo dei prezzi dei carburanti fa emergere con forza la necessità di un piano energetico che preveda anche l'uso dell'eolico e del solare o meglio di impianti a biomasse anche per il comparto agricolo. È un argomento cui l'agricoltura non può sottrarsi anche se è chiaro che occorre procedere con le misure giuste per evitare di sottrarre superfici vitali alle colture. Lei come vede le soluzioni energetiche rinnovabili nelle campagne? Intanto per quello che riguarda il recupero a fini energetici del prodotto agricolo residuale si farebbe bene ad intervenire meglio e più anche su tutto il tema delle biomasse, dei prodotti del sottobosco da cui si può trarre un grande vantaggio sia in termini di reimpiego di questi materiali che in termini di produzione di energia. E quindi su questo c'è uno sguardo naturalmente particolare. Per quello che riguarda in particolare l'eolico più ancora che il solare, lì bisogna andarci un po' cauti perché quella è un'arma a doppio taglio nel senso che l'agricoltura può sicuramente trarre un vantaggio. Però non dimentichiamo che l'installazione di centrali eoliche ovviamente insiste su territori che 9 su 10 sarebbero naturalmente destinati ad uso agricolo. La dismissione di questi fondi agricoli anche per effetto di una crisi che è in atto e che quindi induce l'agricoltore magari a affittare queste aree perché lucra un profitto che diversamente non trarrebbe dall'attività agricola e significa comunque sottrarre terreno all'agricoltura, significa sottrarre ricchezza al nostro paese, significa depauperare il made in Italy e quindi è una cosa che va presa con tutte le cautele possibili e come sempre nel mezzo c'è la risposta, cioè usare il massimo equilibrio e non sottrarre troppa terra all'agricoltura. Grazie.